Continua il nostro viaggio all'interno delle vie di Vicenza. Abbiamo fatto tappa oggi in Corso Fogazzaro. Buongiorno signora, lei come si chiama? Emanuela. Signora Emanuela, da quanto tempo gestisce questa attività? Circa nove anni. Come sta andando la situazione? La situazione è un po' così, la crisi si fa sentire un po' in generale. Curiamo dal pacchettino, cerchiamo di curarlo al massimo perché il cliente abbia la voglia di ritornare. Quindi diciamo che al di là delle piccole difficoltà non ci sono grossi problemi. Ma poi il mio articolo è parte dei profumi, candelle, oggettistica, però faccio anche bomboniere. Ancora oggi c'è qualche... qualcuno si sposa ancora, poi ci sono i battesimi, comunque le comunioni. E allora anche quello dà modo di... infatti bisogna sempre ricercare nuove idee, nuovi prodotti ed essere sempre prima degli altri. Signora, il suo negozio si chiama Soffitta dei Desideri. Qual è il suo desiderio che chiederebbe per migliorare l'attuale situazione? L'apertura della strada, della via, Corso Fogazzaro. Perché quindi prima questa strada era aperta, suppongo? Prima la strada era aperta. Quando io ho aperto nove anni fa la via era aperta, sì. Adesso che è chiusa invece, avete registrato un calo? Qual è il problema? Abbiamo registrato un calo di vendite. A volte di sabato alle 11 di mattina non c'è quasi nessuno. È stato mandato anche delle foto a dei giornali locali per far vedere che effettivamente non c'è nessuno. Le persone parcheggiano, se escono di qua, dell'altra parte del parcheggio, passano veloci. Vanno in Corso Palladio, in centro. La chiederei al sindaco, perché la via è bellissima da quando l'hanno sistemata, è bellissima, è pedonale così. Però l'avrei chiusa il sabato e la domenica. Perché sì c'è il parcheggio grande, però uno che vuole prendere un oggetto, anche piccolo adesso, o un sciroppo davanti alla farmacia mia davanti, oppure da me un oggetto, è seccante di parcheggiare per poi acquistare il prodotto. Quindi lei chiederebbe la riapertura di Corso Fogazzaro, sostanzialmente? In pratica sì, almeno fino al venerdì, dal lunedì al venerdì. Buongiorno, lei è il signor? Sono Luca Rigon. Signor Luca, da quanto tempo gestisce questa attività? Allora, io sono entrato nel quinto anno di questo negozio di vini. Come sta andando la situazione? Ma insomma, la situazione non è certo facile, c'è una situazione generale che è abbastanza complicata, perché l'economia, sappiamo che i consumi in Italia sono fermi e difficili. In modo particolare, poi, questa città ha dei problemi, perché il centro si sta svuotando, il centro è vero, è difficile accedere al centro e poi in modo particolare in questo tratto di strada è una cosa, direi, che definirei proprio assurda, perché noi siamo in una posizione vicina al centro, ma non è centrale, non è mai stata storicamente una passeggiata, quindi non è mai stato pedonale. Hanno fatto un bellissimo lavoro di riqualificazione, però la situazione in questo tratto di strada è che non abbiamo né il traffico, perché la strada è ZTL, non abbiamo né il traffico come qualsiasi altra strada, né però abbiamo il passaggio pedonale, perché non è mai stata una strada di passaggio pedonale, perché è troppo lontana dal centro e quindi abbiamo delle attività in un tratto di strada che di fatto in tutte le ore del giorno è praticamente deserta, è deserta. La sua attività si occupa di prodotti artigianali, come mai questa idea? Soprattutto ci parli un po' della sua attività. Ma questa idea, diciamo che io arrivo da un settore che è entrato in crisi e ho dovuto reinventarmi un'attività, insomma da una ventina d'anni faccio una ricerca personale, insomma perché ho questa passione legata al cibo, legata al vino, il vino in modo particolare, ho conosciuto un grandissimo esperto di vini con il quale ho fatto dei corsi, ho fatto delle degustazioni, ho partecipato proprio a delle degustazioni insomma importanti e ho conosciuto l'importanza di questo prodotto che è il vino. e quindi da ciò l'idea di proporre un negozio, insomma di aprire un negozio che proponesse solo alta qualità artigianale, sia per i vini, per gli oli, per gli aceti e per una serie di prodotti alimentari che poi sto ricercando e sto selezionando. Quindi si è dovuto un po' reinventare per via della crisi, si ritiene comunque soddisfatto di aver intrapreso questa nuova attività? Allora io sono molto contento di questa attività perché è un mondo bellissimo, il mondo dell'artigianato alimentare, del vino in modo particolare ma anche dell'olio, c'è un contatto con l'agricoltura incredibile e poi sono prodotti veramente eccezionali, buonissimi, genuini e il vino poi in modo particolare è un prodotto emotivo, è un prodotto che è fatto in un certo modo. Cosa chiederebbe e soprattutto a chi per venire incontro a voi che gestite le attività soprattutto in questa zona? Ma io non chiedo niente di particolare, secondo me ogni attività deve avere il proprio carattere e avere ben preciso a chi rivolgersi, per esempio il mio negozio lo è perché io propongo solo alta qualità artigianale nei vini e negli oli, ma il punto è che se c'è un tratto di strato dove non c'è né il passaggio veicolare, cioè non è accessibile con le macchine e le persone si spostano così di fatto, né abbiamo un passaggio di pedoni come nel centro storico, abbiamo un grosso problema perché non abbiamo nell'uno o nell'altro e quindi lei si figuri un'attività, una vetria dove non passa nessuno, nessuno ti vede, bisogna lavorare solo col passaparola, ma questo va bene ma è troppo poco, cioè io chiederei solamente una situazione normale, cioè o di passaggio veicolare come in tutte le strade a questa distanza dal centro oppure se no uno si mette in centro, paga che avviene un affitto più alto, però ha il passaggio di un centro storico, perché qui siamo vicini al centro storico, ma non è mai stato centro storico.